La Reggia Vambitelliana di Caserta è la Reggia Designer Outlet unite in un progetto che si pone l'obiettivo di promuovere la cultura di Caserta e Napoli, offrendo a cittadini e turisti l'opportunità di raggiungere la destinazione a bordo di una navetta con due fermate. Il progetto di sostegno concreto alla cultura dei due territori, ricchi di storie e luoghi d'arte, è stato illustrato nel corso di un incontro con la stampa da Stefano Vaccaro, Center Manager della Reggia Designer Outlet. Sono segnali importantissimi perché nascono da una collaborazione, da una partnership e oggi se si vuole intendere il business o semplicemente la bellezza del territorio, è importante che si sviluppi attraverso delle partnership, una sinergia tra eccellenza del territorio e crediamo fortemente nell'eccellenza nostra e in quella della Reggia di Caserta e insieme possono davvero sviluppare un potenziale che questo territorio merita. Il direttore della Reggia di Caserta, Mauro Felicori, ha sottolineato la valenza culturale dell'iniziativa. L'area metropolitana di Napoli di cui Caserta fa parte e la Reggia fa parte è un'area straordinaria, bisogna però che i collegamenti siano più veloci, quindi questo collegamento diretto può offrire un'opportunità ai napoletani, ai casertani ma soprattutto ai turisti che sempre più numerosi frequentano la nostra regione. All'incontro hanno preso parte anche l'assessore alla cultura e al turismo del comune di Napoli Nino Daniele e dall'assessore alla cultura del comune di Caserta Daniele Abborrelli. Il patto di alleanza inizia concretamente con il percorso in navetta con partenza da Napoli, tutti i giorni alle 10.30, ma affonda le sue radici in un primo appuntamento che ha unito le due regge già a maggio, quando la Reggia Designer Outlet, da sempre vicina all'eccellenza del territorio, è stata partner della Reggia di Caserta in occasione della mostra Terremotus. Daniele oggi ha testato il viaggio in navetta. Migliorare la comunicazione, mettere in relazione facilitando la visita, crea un'offerta territoriale molto più ricca e ampia, agevola i turisti e i cittadini e quindi questo è un piccolo ma importante segnale nella direzione in cui bisogna andare per sempre di più crescere nel mercato turistico, come abbiamo cominciato a fare in questi anni, ma adesso dobbiamo essere ancora più bravi.